Cari amici, fratelli, buonasera, ben ritrovati per questo momento di preghiera che questa settimana facciamo insieme le persone di Canova. Abbiamo con noi Carmen, giusto? Benissimo, poi arriverà anche Claudia, ma con la prossima preghiera. Bene, come sempre facciamo, iniziamo col Signore della Croce e poi leggiamo il Vangelo della settimana, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse Nicodemo, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo si è salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Ascoltiamo adesso da Carmen il commento di questo Vangelo. Il Vangelo di Giovanni, fin dalle prime righe, afferma che Gesù è la luce vera, che venendo nel mondo illumina ogni uomo. La luce deve fare i conti con le tenebre ed entra in conflitto con esse. La luce, illuminando, mette in luce e fa verità. E questo non è sempre così piacevole da accettare. Riconoscere Gesù nella verità significa scegliere di togliere le non poche maschere che indossiamo per nascondere veramente chi siamo. Ma solo la verità rende liberi e solo la libertà rende felice. La quaresima è tempo propizio, favorevole, per fare verità dentro di sé, per rischiarare le nostre tenebre, per scoprire Gesù come la luce vera. Come importante la luce. Se entrassimo, magari quando eravamo piccolini, avevamo un po' rientrato in una stanza buia, poi arrivava la mamma, ti prendeva per mano e il buio rimaneva magari, ma lei era la luce che guidava dentro questo tenebre. Gesù è ovviamente infinitamente tutto questo. La sua compagnia ci guida, ci illumina e anche nei momenti difficili e tenebrosi lui è la nostra compagnia, la luce vera che illumina il mondo e soprattutto il nostro cuore. Bene, adesso preghiamo insieme dicendo Signore illuminaci con il tuo amore. Signore illuminaci con il tuo amore. Ci inviti ad alzare lo sguardo al figlio dell'uomo innalzato sulla croce per avere la vita che non muore. Signore illuminaci con il tuo amore. Ci chiedi non tanto di guardare ai crucifissi appesi al muro, ma di riconoscervi un Dio con le braccia spalancate. Signore illuminaci con il tuo amore. Aiutaci a lasciarci accogliere e amare da te, perché anche noi viviamo da innalzati, traboccanti del tuo amore. Signore illuminaci con il tuo amore. Dichiamo il Padre nostro, questa sera in particolare per ringraziare il Padre che ci ha mandato Gesù come luce della nostra vita. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Abbiamo parlato della mamma che ci guida da bambini nella stanza buia. Nostra mamma più grande è la Madonna, la preghiamo, perché davvero ci protegga sempre e ci guidi a Cristo. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. I nostri angeli custodiano il volto illuminato dalla luce di Cristo. Chiediamo che ci proteggano e ci guidino sempre. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato, dalla pietà ci resta. Amen. Ringraziamo Carmen di questo momento di preghiera, ringraziamo voi che avete ascoltato, ci avete accompagnato e alla prossima, mi raccomando, continuate ad ascoltare questo momento di preghiera così semplice, ma che penso, spero, così bello. Ringraziamo il Signore nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonasera e buonanotte a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.